La tecnologia potrebbe non essere il settore più conveniente in cui investire nel 2024? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. È un quesito che mi ponevo, che attenzionavo, se vi ricordate, qui sul mio canale fra la fine del 2023 e i primi giorni di quest'anno. Del resto, il tecnologico proviene da uno dei migliori anni di tutta quanta la sua storia. Una corsa straordinaria e quindi vi esortavo a maturare il pensiero del tipo della serie ma è assai improbabile che questo movimento prosegua con la medesima forza. Questo è logico e ce lo insegna anche la storia, la natura dei mercati finanziari. Ora noi scendiamo e cerchiamo di andare a leggere questo articolo della Morningstar e quindi lo commentiamo insieme. Prima concedetemi 30 secondi per ricordarvi che ho aperto l'iscrizione al mio percorso formativo, il Master delle Rendite, se siete curiosi ad apprendere l'operatività e le strategie in opzioni o a conoscere e esplorare il mondo delle azioni da dividendo e il mondo dei trust immobiliari per una generazione di rendite. Quindi vi è la condivisione permanente dei miei portafogli, aziende che escono, che entrano, analisi per ogni singolo titolo. Tutto quanto ovviamente a scopo didattico, formativo, non è un consiglio finanziario, non è un segnale di trading, mi raccomando. Ora, però, detto ciò, proseguiamo con questo articolo. Anzi, iniziamo. Va a scrivere da Morningstar che il settore della tecnologia si è preso un'altra fetta di mercato a Wall Street. Ora, rappresenta il 29% del paniere generale rispetto al 27% del 2021. Secondo, va ovviamente a paragonare l'indice Morningstar Tech USA con quello invece del mercato in generale. Ma è come se fossero un confronto molto simile fra un Nasdaq e un S&P 500, per intenderci. Ora, qui ci si interroga se la bolla tech farà sboom da boom. in quanto il paniere rappresenta quello tecnologico il 29%, nel 2021 era il 27% e ci sono ovviamente tutti gli altri settori che sono calati. In particolar modo quello del farmaceutico che rappresenta il 12,4% a livello di ponderazione quando prima della crisi finanziata del 2008 pesava solamente il 20%. Quindi cerchiamo di capire questo interrogativo. Era da tempi della bolla tecnologica del 2000, la famosa .com, che non si vedevano questi numeri, questi scenari, queste dinamiche. Ovviamente anche chi è più giovane deve sapere che se detiene fondi o ETF azionari sul mercato americano in questo momento è largamente sovraesposto al settore tech. Quindi, insomma, viene ricordata questa cosa anche a chi non pensasse di partecipare a una corsa al tecnologico come nel 2000, dove si faceva ovviamente a livello di scelte personali, perché non è che in quel periodo ci fossero tutti gli ETF che esistono oggi, soprattutto in Europa. Pertanto, oggi si tende invece ad utilizzare molto questi strumenti. Uno diceva, bene, io ho messo sull'America, non sto lì a esagerare sul tecnologico, per quanto negli ultimi anni abbia fatto bene sia stata una scelta premiante, però in realtà rappresenta quasi un terzo del vostro ETF sull'America, probabilmente, a meno che sia costruito in maniera un po' diversa e non sulla ponderazione, per dire, di un S&P 500. Detto ciò, le Magnifique 7 sono state protagoniste del rally di Wall Street, va bene, lo sappiamo, e allora va subito a evidenziare quelle che sono le differenze con la bolla tecnologica del 2000, perché già molti di voi si saranno straniti, immagino. Sì, va bene, ma all'epoca molte aziende non valevano nulla, era sufficiente scrivere la parola internet o proporre un sito, appunto, con il dominio.com, tutti ci investivano, senza nemmeno capire cosa fosse, è normale che gli utili, i bilanci, non accompagnassero nel giusto modo le crescite borsistiche, quindi non fossero in realtà riflessi, era tutta una promessa sul futuro, che poi c'è stato, ma in quel momento era tutta una speculazione. Ora va a evidenziare, infatti, la Morningstar, i rialzi di questi titoli non sono semplici speculazioni, perché Nvidia e anche altre società hanno superato le stime sugli utili. Inoltre, sono in atto diversi mega trend che spingono il settore, l'e-commerce, il cloud, insomma, sappiamo come oggi tutti quanti comprino attraverso internet, su degli store, ad esempio, come quelli di Amazon. Quindi queste tendenze si sono affermate nel corso degli anni, determinando una sola performance nell'indice tecnologico rispetto ad altri settori. Quindi se una volta era quasi pura speculazione, ad oggi invece tutto quanto è stato riflesso effettivamente dal dominio della tecnologia, dalla grandissima crescita reale delle aziende partecipanti a questo settore protagoniste. Quindi va a dire che il Morningstar USA Technology Index ha reso il 22% annualizzato nel decennio, contro il 13,5% del paniere rappresentativo di Wall Street. È veramente una performance incredibile. Un 22% annualizzato nel decennio significa che ha ottenuto una media superiore a quella che, in tutta la sua storia, quindi un lasso di tempo assai superiore rispetto a un decennio, però ha ottenuto, ad esempio, ha ottenuto Warren Buffett. Cioè, qui stiamo parlando di crescita annualizzate straordinarie. Ma anche il 13,5% del paniere rappresentativo di Wall Street, io vi ricordo che sia una crescita straordinaria. Cioè, l'S&P 500, una volta che si è cominciato a riprendere dalla crisi finanziaria del 2008, ha maturato delle performance veramente notevoli. Quindi stiamo viaggiando a delle medie, siamo abituati a delle situazioni superiori alla media. E siccome ci sono nuove generazioni che hanno iniziato a investire, io temo che troppe persone possano credere che sia sempre una festa. Invece i cicli sono ricorsivi, quindi bisogna sempre prestare attenzione a questo, dal concetto del ritorno alla media, un fattore su cui io insisto tanto. Quindi qui va a evidenziare, appunto, come vi sia il fenomeno della rotazione settoriale. Dice, perché dunque dovremmo pensare che la tecnologia possa smettere di essere una top performer in portafoglio? Del resto, continua sempre di più ad essere la protagonista dell'economia reale, delle nostre vite. Però un analista ci fa sottolineare come la storia ci insegna che la leadership dei settori va e viene. I settori difensivi, ad esempio, hanno subito un cambio di sentiment tra il 2022 e il 2023. Questo universo comprende le società di beni di consumo difensivi, farmaceutici e le utilities, che hanno resistito relativamente bene al tormentato 2022, ma hanno faticato l'anno scorso quando la temuta recessione non si è verificata. Poi che è successo? Che il settore energetico è stato protagonista nel 2022, a seguito della crisi energetica causata dall'invasione russa in Ucraina e dagli squilibri generati dalla pandemia. Per contro, poi, il comparto cosa ha fatto? Ha avuto rendimenti inferiori all'indice azionario americano nel 2023 e il suo peso sul totale è sceso dal 15% del 2008 al 4,2%. Quindi, quello che va a sottolineare è come i singoli settori possono vivere numerosi anni di splendore o di sottoperformance. E questa situazione è ciclica, è ricorsiva, è naturale nelle economie e nelle borse. Quindi, vi è una rotazione settoriale. E qual è il problema? Che ci si abitua al fatto che le cose continueranno così come sono oggi. Ed è un bias cognitivo questo qui. Perché lo vado ad affermare? Ad esempio, immaginate chi investiva... Prendiamo un paese, non è un settore, ma mi piace come esempio, no? Ve l'ho già parlato, il Giappone. Chi investiva nell'economia, nella borsa giapponese, negli anni 80 faceva una marea di soldi. Era abituato a quello e pensava che sarebbe stato sempre così. Poi, a caso è successo? Un trentennio disastroso. E dieci anni fa nessuno si sentiva di poter investire in Giappone. Ne avevano tutti quanti paura. Lo sapete il Nikkei, di quanto è cresciuto negli ultimi dieci anni, del 300%. E sta registrando nuovi massimi. Quindi le cose a un certo punto cambiano, anche in maniera repentina, forte. Cioè, nulla dura per sempre. Lo so che in questo momento possa sembrare difficile. Come quando provinevamo da anni e anni di rendimenti a zero, ormai le obbligazioni non rendono più nulla. Ormai si chiedono i prestiti senza interessi. Guardate cosa è successo nell'arco di pochi trimestri. Le obbligazioni hanno dei buoni rendimenti e i tassi sono diventati altissimi. Non avevamo più visto l'inflazione. Non sappiamo cosa fosse l'inflazione. Mentre le nuove generazioni, anche relativamente giovani, nemmeno giovanissime, non conoscevano sul cielo l'inflazione. Poi, lo scorso anno, ce ne siamo accorti che cosa significa l'inflazione. Ora, sta rientrando, poi vedremo come andrà a finire questa storia. E quindi si pensa sempre che a un certo punto l'epoca che noi viviamo, perché ci abituiamo a quella, andrà a proseguire nella stessa identica maniera, no? Che il futuro faccia necessariamente rima con il nostro presente e con il passato. E invece non è necessariamente così. Allora, in quali settori investire nel 2024? È bella domanda. Diciamo che possiamo andare a vedere quali sono i settori sicuramente sottovalutati. Quindi, comunque ci dicono che nel breve periodo, le performance dei settori può essere determinata da diverse variabili. Attenzione, nel breve periodo. Macro e microeconomico e di sentiment. Hai visto quanto io insisto sul sentiment, ragazzi? È molto importante. Non possiamo mai ridurre, soprattutto, voglio dire, nel breve e nel medio termine, tutto quanto alla pura matematica, all'economia, alla macroeconomia, alle dinamiche delle banche centrali, il sentiment, l'umore, ok? Degli attori in gioco può essere prevalente. Ma questo ruolo è fondamentale soltanto nel breve e medio termine. Ora, nel lungo periodo, invece, le valutazioni contano e come. Quindi, non si è più innamorati di un settore perché non va di moda. È più interessante un altro e va tantissimo di moda. E quindi, queste mode, questi atteggiamenti, possono far proseguire in maniera irragionevole, che non riflette davvero al 100% i fondamentali, la prosecuzione di un movimento rialzista o ribassista. Una situazione di sopravvalutazione o una situazione di depressione, ok? In termini di valutazione. Questo significa, e un settore, poi scrivono loro, può beneficiare di una crescita strutturale. Ma se tale crescita si riflette pienamente nei prezzi, i risultati deluderanno le aspettative. Per contro, un settore in difficoltà può sorprendere in positivo se le aziende battono le stime. E qui ci fa vedere, effettivamente, quali siano i settori depressi, c'è questo grafico, questa slide, che ci propongono. Abbiamo, con il colore, sempre quello che va di più verso il blu, come tendenza. Significa che andiamo incontro a una sottovalutazione, ma in termini proprio di price fair value. Quindi non è soltanto un discorso prezzo utile, no, no, proprio il fair value, cioè si cerca di calcolare quello che sarebbe, per tutte quante le conoscenze, per tutta la statistica, per i fondamentali, per applicare i propri principi di fattori value, si attribuisce un valore a un settore, e quindi il price of fair value sul settore. Ecco, più è blu è più sottovalutato, più va perso l'arancione, più è sopravvalutato. Poi, ricordiamoci, ci sono appunto tanti motivi per cui poi si innescano queste dinamiche, ma ad oggi, diciamo, è innegabile che ad esempio le utilities siano molto sottovalutate. Cioè, se voi andate a vedere l'andamento delle utilities a livello storico, a livello statistico, qual è il loro PE medio, qual è la loro valutazione media rispetto agli utili che riescono a generare, e vedete anche i grafici di queste azioni degli indici rappresentativi, sono crollate, e questo è di peso non tanto, diciamo, dalla situazione della generazione dei loro utili, ma soprattutto è di peso dall'aumento dei tassi di interesse. Sono delle aziende molto sensibili a questo. Abbiamo infatti sul colore blu, ad esempio, anche il real estate, l'immobiliare. Abbiamo l'energy, il communication services, l'health care. Insomma, ci sono tanti settori, potete andare a vedere in maniera autonoma poi il seguente articolo, ragazzi, il titolo è investimenti perché la tecnologia potrebbe non essere il miglior settore nel 2024, invece fra i settori sopravvalutati cosa incontriamo? Il tecnologico, il consumer cyclical e l'industrials, che comunque è cresciuto tanto. Quindi bisogna sempre sapere che vi è una rotazione. Ci sono anche, ad esempio, degli ETF. Pensate al capo, ragazzi, o capo, insomma, all'ossiam. Questo ETF, andiamo a vederlo insieme. Eccolo qui, l'ossiam schiller. Vedete? Io lo chiamo capo perché è il ticker. E praticamente cosa fa? Va a operare una continua rotazione settoriale esponendosi sui settori più sottovalutati, che hanno performato peggio. E quindi, sui settori che, ad esempio, noi potremmo aver visto. C'è tutta quanto una metodologia precisa, ora qui non la sto ad affrontare. È tutto quanto basato sulle assunzioni del professore Schiller. Si è visto che, comunque, ha funzionato molto bene nel tempo. Il settore che, invece, cresce di meno potrebbe essere in declino una trappola, quindi viene escluso. E è molto interessante. Guardate che risultato abbia prodotto in questi anni. Addirittura sta battendo l'MSC World o l'S&P 500 stesso. Quindi, comunque, l'approccio costruito in maniera razionale, scientifica, in questo caso, direi addirittura algoritmica, può essere premiante, come vedete, basandosi sui principi della rotazione settoriale. Perché si va a investire a un certo punto in quei settori che hanno performato peggio, che sono, diciamo, più sottovalutati? Proprio perché vi ha il principio del ritorno alla media. Cioè, nessun settore, se valido, rimarrà per sempre sopravvalutato o sottovalutato. Ed è un approccio molto interessante, a riprova che non sia una stupidaggine quello che stiamo leggendo. Ovviamente, questi sono discorsi per il contesto attuale, per chi ha tantissimo tempo a disposizione e ritiene giustamente che la tecnologia continuerà ad essere il settore predominante delle nostre vite, va bene, lo tiene lì e probabilmente per i prossimi 20-30 anni farà meglio, ma non lo sappiamo, non possiamo esserne assolutamente certi, ma è probabile, è logico, è decido aspettarsi che possa fare meglio di altri settori, però questa è la fotografia del momento odierno, cioè non possiamo di certo dire che alcune delle magnifiche 7 siano sottovalutate, sono sopravvalutate. Poi scegliete voi se sia giusto o sbagliato, ma questo ovviamente è innegabile. è chiaro che potete portarmi sempre dei singoli esempi che sono delle eccezioni che escono fuori, esistono anche ad oggi delle tecnologiche anche importanti che non sono così sopravvalutate, ma il settore in generale comunque viaggia a dei molti molti alti, proviene da una crescita superlativa e quindi insomma poniamo un po' di attenzione, sarebbe meglio non vivere una sovraesposizione totale su questo settore al momento su uno tema la volatilità temi i crolli tema il ritorno alle medie questo è fuori di dubbio bene ragazzi io vi ho detto molto diciamo di quello che pensavo poi quando chiuderò il video magari mi verrà in mente qualcosa mannaggia perché non l'ho detto fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di quello che avete ascoltato e come state decidendo di operare magari avete un etf super diversificato mondiale non ve ne importa assolutamente nulla si adeguerà in maniera autonoma seguendo i settori nella storia futura io vi do appuntamento a prestissimo lasciate un bel like iscrivetevi al canale ragazzi se volete sostenermi perché molti di voi guardano il mio canale ma non si iscrivono io vi do appuntamento a prestissimo nel frattempo vi avvole il meglio nella vita e negli investimenti ciao